L'errore fatale di Fredrick Brown. Grazie, ecco il titolo della nostra spiegazione. Questa è un'immagine in alto a destra di questo scrittore. Si è trattato di uno scrittore eccezionale, non molto fortunato in vita. Infatti lui era una persona di modeste condizioni, povero essenzialmente. Ha scritto questi racconti e questi racconti non sono stati apprezzati mentre lui era ancora vivo, o comunque non gli hanno dato questa grande notorietà, questa ricchezza. In realtà sono stati racconti importantissimi, soprattutto per la storia della letteratura fantascientifica, diciamo la verità. Però hanno una caratteristica questi racconti, sono racconti brevi che spesso hanno un finale a sorpresa. Un finale che stupisce il lettore e che gli fa pensare a tutto quello che ha letto in precedenza e glielo fa anche rivedere criticamente. E quindi aprono la mente davvero questi racconti di Fredrick Brown. Ne abbiamo letti altri, potete vedere i nostri video su YouTube, sulla Sentinella, che è probabilmente il suo racconto più famoso, ma anche altri che abbiamo già commentato. Adesso, oggi invece, leggiamo questo racconto che si intitola Errore Fatale. Questo racconto ha invece un pochettino più a che vedere con il genere del poliziesco, del racconto poliziesco. E leggiamolo allora. Il signor Walter Baxter era da lungo tempo un avido lettore di romanzi polizieschi. Così, quando decise di uccidere lo zio, sapeva di non potersi concedere nessun errore. Ecco, tra l'altro, spesso nella letteratura poliziesca, come obiettivo, gli assassini, gli omicidi, si pongono proprio il cosiddetto delitto perfetto. E' quello in cui non si lasciano assolutamente indizi di alcun genere. E quindi, diciamo, degli appigli per l'investigatore per arrivare a scoprire chi è l'assassino. Certamente, come ben sappiamo, in tutti i romanzi gialli il buon investigatore riesce sempre comunque a trovare una falla perché non esiste, tra virgolette, il delitto perfetto. Comunque, questo tale Walter Baxter ha questo obiettivo. Ha deciso, lo zio è ricco, ricco, ricchissimo, straricco. Allora lo vuole uccidere per la sua eredità. Per evitare di commetterne, tutto doveva essere all'insegna della semplicità, della più completa semplicità. Niente alibi zoppicanti, niente modus operandi complicati, niente false tracce. Quindi, come vedete, lui progetta molto bene l'assassino dello zio. Beh, a meno una piccola falsa traccia, molto molto semplice, avrebbe dovuto concedersela. Avrebbe dovuto portare via tutto il denaro contante dalla casa dello zio in modo che l'assassino sembrasse un corollario del furto. Cioè, l'investigatore avrebbe visto lo zio morto, poi, diciamo, questo furto, e quindi l'investigatore doveva arrivare alla conclusione che era stato il ladro ad ammazzarlo. E quindi non doveva capire, intuire, che invece era stato il nipote, William Baxter è il nipote, no? Ad ammazzarlo. Se non avesse preso questa precauzione, sarebbe stato un sospettato ideale in quanto era il solo erede. Acquistò con mille cautele un piccolo piede di porco in modo che non si potesse risalire a lui. Gli sarebbe servito sia da attrezzo sia da arma. Così si prendono due piccioni con una fava. Quindi con questo attrezzo, in metallo molto duro, sarebbe riuscito a scassinare la cassaforte per via di quella, vi ricordate, la falsa traccia del furto. Sia ammazzare lo zio. Prese in esame con cura anche i minimi dettagli, nella consapevolezza e nella certezza di non potere e di non volere commettere alcun errore. La parola errore è una parola chiave, evidentemente, in questo racconto poliziesco. Scelse meticolosamente la notte e l'ora. Il piede di porco aprì la finestra con facilità e senza far rumore. Entrò nel salotto. Ah, quindi il piede di porco doveva servire anche per aprire la finestra. Entrò nel salotto. La porta che dava sulla camera da letto era socchiusa, ma poiché non si sentiva alcun rumore, decise che per prima cosa avrebbe provveduto al furto. Prima faccio il furto e poi l'omicidio. Sapeva dove suo zio teneva il contante, ma doveva dare l'impressione che per trovarlo avessero messo tutto a suo quadro. Il chiaro di luna era sufficiente a vedere. Si mosse in silenzio. Dopo due ore, tornato a casa, si svestì in fretta e andò a letto. Non era possibile che la polizia venisse a sapere del delitto prima del mattino seguente, ma nel caso che fossero venuti prima, lui era pronto. Si era liberato del denaro e del piede di porco. Gli aveva fatto male al cuore a dover distruggere parecchie centinaia di dollari, ma non aveva scelta. E poi non erano niente di fronte ai 50.000 e più dollari che avrebbe ereditato. Qualcuno bussò. Di già. Si costrensia la calma. Andò alla porta e aprì. Lo sceriffo e un vice sceriffo entrarono da autorità. Walter Baxter, abbiamo un mandato d'arresto. Vestitevi e venite con noi. Un mandato d'arresto? E per cosa? Furto con scasso. Vostro zio vi ha riconosciuto dalla porta della camera da letto. Se ne è stato buono finché non ve ne siete andato. Poi è venuto alla centrale e ci ha rilasciato una dichiarazione giurata. Walter Baxter spalancò la bocca. Dopotutto un errore l'aveva poi commesso. Aveva studiato il diritto perfetto. Ma preso come era dal furto aveva dimenticato di commetterlo. Allora praticamente l'errore fatale di Walter Baxter sta nel fatto che lui non ha ammazzato lo zio. Quindi ha fatto tutto ha come dire preparato e programmato tutto alla perfezione. Avrebbe dovuto fare il furto e poi ammazzare lo zio. e poi tutto quanto sarebbe stato chiarito. Insomma praticamente lui era scagionato per il semplice fatto che era stato il ladro ad uccidere lo zio. Poi però preso così tanto dal furto è tornato a casa senza ammazzare lo zio. E così poi lo zio l'ha denunciato e lui se ne va imprigionato e tutto aveva anche buttato i soldi. Grazie. Grazie. Grazie.